Oli sono Marcus Cron Io sono Shifty Vine Signori puntatore all'esplorazione con la Shifty su Scrap Mechanic Un'op incredibile Amore quanto manca all'ortone? Manca 30 secondi 30 secondi arrivano i mostri Raga dall'ultima puntata sono passate un pochino di cose Abbiamo fatto meglio questo Abbiamo anche trovato dei semi E come promesso dopo l'irrigazione automatica E' troppo figa quella Dopo l'irrigazione automatica ragazzotti Ci abbiamo Andiamo in esplorazione Però prima stanno arrivando i mostri Io non li vedo Li vede Sofia Quanto manca? 9 secondi 6 5 4 3 2 1 E qua Dove sono? Sono qui così là Arrivano aiuto Ansi ansia Ansi ansia Adesso Ok c'è neanche uno dietro Lo sai che puoi fare alt indietro con la freccetta E vedere tutto No mi devi sconcentarmi Scusami Aspetta Aspetta Quello sembra Vai schiaccia Tira su Tira su Adesso Ce n'è un altro Vai tira su Ce n'è un altro No quello è passato Abbiamo rinfiltrato Ucciso E' finita E' finita L'Italia è fuori dai mondiali Dove? No quello laggiù In fondo Non ti preoccupare Lì è tranquilla Alla rica abbiamo trovato Si si Puoi scendere Grazie Abbiamo trovato questi che sono le patate Le patate per adesso non si mangiano No spoilers Ma secondo me sono dei proiettili Le patate Le patate Ci sta Beh Sono due Le mette tipo nel cannone Fanno malissimo le patate Ma ti la doveva una patata addosso a qualcuno Fa malissimo Forse si Forse Beh a me me l'hai tirata addosso Sei proprio tre Comunque Comunque Per rispondere ai ragazzotti che ci hanno detto Mettete le seghe Metti i drill Così non ti attaccano A parte che le seghe non funzionano Funzionano i drill I mostri hanno paura dei drill Ma con questa farm Ti costa un secondo di tempo Lo so che non è automatico Ma fai un botto di materiali Cioè quando ti attaccano quelli forti Poi io li prendo Prendi i cosi Le parti Le metto qua sotto E vengono super lavorate Ok? Ora Che sta a fare? No mi stai a bucare No Sbaglio Avevo fatto un buco piccolino Tranquillo Un buco piccolino? Tutto risolto Tutto risolto Ma che bella questa cosa che hai fatto qua sopra Ma è per non far tirare i mostri? Sì Sì Normalmente Si salirebbe da qua Col sedile Ma il sedile l'abbiamo impiegato In una nuova Invenzione fatta Tutta su Twitch Proprio per questa puntata con Sofì Eccola qua Raga BAM Ma perché mi martelli? Guarda la carezza Vieni qua Ecco fatto Ecco Guardate che bella Sulla reggina Guardate che bellezza ragazzi Completamente Ammortizzata Stretta Per Divincolarsi Aspettate che è a largo Con Con Passo Tutto bene Tutto bene Tutti così fuori Come stanno E varia per un percuro Come? No Sono molto Amare Abbiamo fatto Nero e verde Poi abbiamo una tanica di benzina Qui dentro ci abbiamo messo Tutta la benzina Abbiamo farmato Una cesta Con il cibo E ragazzi L'obiettivo di oggi È sicuramente andare a trovare il cotone Perché ci permette di fare il letto Il sedile è migliorato E se tu ti metti il letto Sulla Sulla cosa Sulla macchina Puoi sponare direttamente sulla macchina Che è stra buona Tipo un camper può essere È tipo un camper Però senza tenda Non ti posso bicchiare mentre sei Ah no 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 Non ho fatto Per male che erano stata guidata Dove vai? Va bene Questa qui è quella per te Che cazzo è Che è successo? Perché È ingabbiato Aspettiamo un minutino Che diventa giorno E andiamo all'esplorazione Ok siamo pronti È giorno Io andrei Tutto a destra Ovvero Dove non abbiamo più continuato Perché c'è Avevamo la macchina del merda La macchina non è a piena potenza Abbiamo Sette tacche su dieci Se non sbaglio Però io Se Allora Se la potenziassi troppo Diventerebbe poco aderente Dovremmo allargarla Ma allarga non mi piace Quindi preferisco più sinusa Chissà dove sarà il cotone Stiamo andando Ah C'è stato di qua Allora questa qui Sì fino a qui siamo arrivati Ok Questa qui è un posto Dove dice Se tu mi porti Tot verdure Te le impacchetto Però Ora A parte gli spoiler A parte gli spoiler Cioè Non ci facciamo niente A meno che Non sblocchiamo una cosa Che però Dobbiamo andare a trovare Spoilerone proprio Ho capito Ma la gente Per scrivere in chat Nei commenti Per spoiler Tutto Non è colpa mia Allora andiamo Tagliamo offroad Questa è una macchina Offroad Che pure Che pure C'è quella che ci Uccidiamo Ma no no Allora questa è una diga Per Sofia E' un Zylos Sì però non c'è un ghezzo Ttubi 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 Ce andiamo Va bene Ma la capa è finita O no non credo Cioè Ci sarà una fine Non lo sappiamo Io ho visto un tizio Che è andato dritto Per 50 minuti Non ha fatto Non ha trovato un ca Cioè Ha continuato a trovare Mappa Quindi boh Ah Allora Questa struttura Non l'abbiamo esplorata Andiamo quindi io mi fermerei qui no c'è un'altra struttura fermi tutti questa è più bella cos'è ok ma è quella di prima ma è un altro siamo tornati indietro è un'altra arance banane berry berry brew è un'altra verdure che è qualcosa da dietro vieni questo è il cibo sberris ma sono ben rimorti e l'altra verdura aspettate che abbiamo messo anche il clacson oddio che lag se ha lagato no il cazzo non funziona salga salga signorina shifty minds tutto bene no allo schiacciato aspetta tu mi hai ucciso stai fermo vada ma figa non mi fa insegnere ma prova a saltare ok continuiamo sempre sulla strada oddio che la strada è finita qui la strada qui finisce che faccio torno indietro non vado a perdermi nel no c'ho paura ma queste sono quelle un po abbandonei che si trovi no tra l'altro i reparti effettivamente però non penso che troviamo il cotone qua dentro non credo ecco dove serve per fare guarda guarda incappottabile siamo vivi siamo vivi top cos'era la mucca bene la mucca con le mammelle questo che abbiamo visto non tubare 23 buccia del culo ok a chi è questa roba è la povrosa ma chi è un po di tossico sinceramente eh sì non sa molto di questo e cotone un cantino tossico non soffrezza ma fa male lega aiaia fa malissimo aio sovino vai a cagare levati levati leggino la macchina soffì via un attimo aspetta non ti vedo ecco ma tu non vedi il mio nome vieni volevi prendere per il culo ma invece ma non c'è niente dice che c'ho un chemical bucket questa roba qua in che senso o si arriva un mostro siete cazzo perché siamo così nani no scendi scusa ma sembra cernobyl rega ecco che sono a mio posto quindi è così che si fa la roba chimica oh no help ma sei brutta però ma non è che ma la macchina è salva ok quindi adesso ci abbiamo sta cosa per fare il chimico ok però ma dai ste piante saranno questo no ma di chimica ci intendiamo questa roba niente si è andato guarda come sta raccattando ho capito questo magari è importante non mi ricordo che ci si faceva quel chimico regà comunque se ci perdiamo è finita te lo dico forse dalle batterie non lo so oddio è pieno di mostri che uccidono le mucche soffi vuole le difende spettacolo ma la difende schifoso brava ma ci ha scritto qualcosa la mucca sul culo bro si fanno shake mi dispiace no scappa scappa e basi è brutto lascia stare la mucca c'è un cattivo oddio ma andiamo all'indietro no nel no 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 oddio ogni tanto parte va all'indietro io sto a morire aspettate che non ho disattivato gli alert povero vedi che va avanti da sola certe orte io non prego niente oh ma perché va avanti da sola verbi perché sono dei tuoi bianchi che trovi nei campi verbi grazie se i campi verbi i campi verbi 2 1 campo verde bruvia e prende una testa laggiù forse rosso cosa prende scusa aiuto aiuto no 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 te prego non lo perdite te prego scappata è scappata eccola eccola si è fermata ma velocissima no è andata no dai bruno no no Nell'acqua, nell'acqua, nell'acqua Forse si ferma È partita perché gli ho tolto il controllo della cosa E secondo lei deve partire, capito? Ma sai che è andata nell'acqua? Meno male che è andata nell'acqua Forse la troviamo Dove, Bru? Eccola, eccola Sì Regà, meno male, meno male Ci abbiamo messo un giorno per fare sta macchina È stato intenso Devo dire Che paura Che fottuta paura, regà Eccola Ma, ma mi è andata male Ma, fa un culo È partita troppo Ma io non cegliarci questa volta Ho capito, non è colpa mia Sama macchina prende impazzisce Vuoi fare le pannote Dai Prendi il secchiello, Bru? Mi faccio vedere Ah, devi scendere Mi ha proprio Scusi Eccola Non me lo fa prenderlo Tasto destro Tieni premuto Come no? Ah, ok Dove sei andato, di grazia? Ma sto dietro di te Ho capito Ma stai fermo Stai fermo Venga Ma salti Lei salti E poi prema I E U No, perché le spacchi tutto? Ma vuoi che te la metto più davanti? Sembra brutto Una strada Una strada Una strada Una strada Abbiamo avuto una strada Cos'è una rampa? Let's go Bellissimo Ma quindi ci siamo già passati No? Sì Può essere No, 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 no Scappa, scappa, Bru? Scappa Ce l'abbiamo dietro Ci sta inseguendo Eh, lo so, lo so Ma noi gli diamo una pista Se non vado a sbattere Ma qui c'è il chimicone Qui c'è il chimicone E qui finisce la nuova strada Lì la strada ricomincia Ah, ok Ho fatto così a pescetti Ma io già mi sono perso Il campo di grano Un girasole Si può prendere il girasole? Vado a vedere Vadi, vadi No, mi sono incassata nella macchina Aiuto Aiuto Come ti sei incassata nella macchina? Aspetta, sto a sentire No, però se lo sposto Non si può? No Shit Vada, vada Andiamo? Ciao, come state? Bene, bene Oh Cazzo Parcheggio perfetto Vabbè, ogni tanto fa così Che te devo dire? Andiamo, andiamo Ma dove andiamo? Io ho paura di perdermi Ma infatti c'è Oh Ma che mappa? Andiamo più a casa, rega Oh, no, 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 no Me lo dicevano che dovevo difendere Entriamo in soggettiva, rega Mamma mia Beh, il soggettivo è una figata, rega Pare una macchina vera È macchina È macchina È macchina Aspetta che soggettiva Ma perché così è farci uccidere, scusa? Non puoi dire che a me è scusa Cioè Sento che senti la nostra vita? Non voglia? Ma sono morta Ecco Ah, ok No, sì Si scappa le mosse, sì Che uccidono le mucche, tra l'altro Come? Ma sono povere mucchine Povero mucchine Sì, ma la strada però qui c'è la segnaletica, le cose Sì, infatti, uno stop, un procedimento di dritto Ma tu vedi, tu ti ricordi dove siamo andati? Ti ricordi che siamo? Da dove veniamo? Decisamente no Non mi scherzo Va bene, seguiremo la strada No, torni indietro Dici che seguiamo la strada? Ah sì, se non c'è la strada dovremmo farcela Credo 17, ci sono anche i numeri per terra, isto Hai isto? Oddio, se capò Però rega, tiene, eh Non è male, non è male Salamente, non sei ancora spacchata Ma Ci vedrei benissimo delle mucche duomi, sto gioco Abbiamo fatto un... Guarda, guarda, guarda Quello sta attaccare le mucche, Bru Vai, difendila No, no Lascio stare la mia mucina L'ha uccisa una, Bru Nooo Ne ha uccisa una, è diventata marmellata Schifoso, schiatta, merdo Brutto Hai ucciso la mucche Ce n'è un'altra, vedi che è salda lei Perché finora le mucchine? Cosa gli ho fatto? Ma sono tipo robot impazienti Robot ribelli Robot Robot ribelli Di qualcosa Come? No, dieci Dieci pezzi arancioni di qualcosa, Bru Arancioni, te rubano i soldi, eh? Un po' fotografi Un po' fotografi Non dire, fotografi Bru, ma qual è il tuo problema col sedile? Eh, ho capito Ma ti muovi, figa, non riesco a prenderlo Quei figa, allora Allora Allora, scusa Se questo qui è il primo Sì No, questo è il secondo Questo è le patate Quindi io torno indietro E trovo casa nostra, no? Esatto Dico bene o dico bene? Perché però è venuto in mente Che a casa nostra A sinistra C'era un posto che non avevamo mai esplorato Quindi torniamo un attimo indietro Mettiamo la soggettiva, regà Ma se ti finisce la benzina, come fai? Eh, si attaccava al cacchio Volare Mamma mia, sta macchina è un portento Sì, sì, funziona bene, certo È un terreno un po' speciale Guarda qui, qui c'è un salto, Bru Questo è il salto della fede No, no Tutti i figli di me, Sofia No Tutti i figli di me Fai bene Fai benissimo Allora, ehm Questa è una cosa c'era Questa c'era nel buco Cioè dove c'era un salto megagalattico E poi si E poi è morto Poi significavasi morte E distruzione Ah Cazzo Ah lo so Cioè Non ti è da molto in grado Va bene Va perché io vado a Max Speed Ho capito Slighto Fisto No, non morire, piccola madre Sto guardando, addio Prendi un gamisco Ok, questa è la prima Questa è la prima Siamo tornando in via Eh, vabbè, però Capito, però Allora Fai guidera a me Fai guidera a me Capirai Fai guidera a me Guarda Va bene Fidaci Continua a benzina Di pezzata la benzina Lo trova tuo cacchio Vai Vai Andiamo Guarda come guidiamo bene No, no Oh, Bruno Vedi un timer all'orto Quattro minuti Fermate 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 Dove sei Dove sei? Dove sei? Ho rotolata via 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 Ho portato via Shifty Guida safe È vero Dai Bravo Ah perché c'è ancora la farm Giusto Qui c'è ancora Comunque mostri Ti mostri Ti inchiappetta Esatto Va bene Dai Aspettiamo Sti quattro minuti Ci diamo loro E poi andiamo avanti Arrivano 5 4 3 2 1 Dovrebbe essere quelli forti Adesso Arrivano Debole 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 Davanti Avevo già preso Tutto all'orto Quindi anche se ci ho Rompessero Chi se ne fre Eccola Arrivano Forte Arrivano Ecco Ce n'è uno Forte Due Forti Ah sono tre forti Taccino E' un altro Venite venite No non mi rompe Quello Ok Ok È salito Ora Questo è salito Questo lo martelli Sul più bello Schiatta Schifoso Vedi che dicevo Regà Guardate Se mettessi Le cose Io ste cose Non le guadagno Perché loro stanno Stanno a distanza E poi mi camperano sotto Invece faccio così E qui si sono 20 pezzi Risparmiati Tutti raffinati Raffinati E poi ovviamente Per adesso Ah questi qui Poi li butto Lassopra Poi ovviamente Adesso è fatta Di mattoni Perché Non Cioè è un materiale Molto Molto facile Però appena possibile Lo facciamo tutto Di metallo Che diventa Super figo Che dice Amore Eh però Loro te li sfondano Te lo sfondano Con due colpi Con i forti Un minecraft Con i veicoli I fatti di monnezzo Sbaglio Non c'entra niente Credo No in realtà Minecraft c'entra Davvero poco Con questo gioco Mi servono più battoni Servono battoni Mattone mio Signore È un po' scondo Però salire Questo Pesso Eh lo so Perché c'è Il sedile tuo Io voglio andare All'esplorazione Proprio per trovare Altra roba Capito Per craftare le cose Per craftare le cose Che ho trovato Che mi dai? E le robe che ho trovato Dentro una cesta Qualsiasi Tanto su tutte Viene Salute Principes Dovremmo alzare il muro In maniera che Quando non li schiaccio Loro non scendono Però Non è accio C'è tutto? Sì sì C'è tutto Arrivo È piena Non ferro Dicono No Non è pietra Non è pietra È pietra È ferro È ferro È ferro È ferro No Non volevo Scusa Hai concavato la tua morte Dai Eri qua Arrivo Dai facciamo Facciamo il cook Ti piace il cook? Eh un pochino Ah dai no Dai fammi cliccare Let's go Aia Il dress bot Lo facciamo Appena la possiamo Perché è solo estetica Sti cacchi Anche se io c'è C'è un po' del merda In effetti Tutto bruciato Eccolo Ma è piccolissimo Ma è piccolissimo Ma è piccolissimo A confronto Ma è trovato così Sì sì Quella è sua madre Lo partorisce Andiamo 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 a posizionarlo Sopra casa Ma che capito Che carino Ma è kawaii È kawaii desu me Oppela Allora Il mio caro Coso Pizza burger Veggie burger E revival baguette A me ispira Pizza burger Ma la revival baguette Ti fa responare Cioè? E si fa con la carne La carne delle mucche Tra l'altro Ah sì E due latte Dice che torni ai suoi piedi In azione Che figata Io non c'ho la descrizione Prova tu Ah perché tu l'hai messo in italiano Non lo mettete in italiano Regà che è molto cioncato Manca tutto Però serve il latte Per tutti quanti No Per questo no Possiamo fare il veggie burger Regà Beh veggie burger Io c'ho Sperato con dei pomodori E delle rap Aspetta che dovrei avere Delle carote Yes E poi servono Ah le patate Le patate Sì Ah ma ne fa una una volta Oh mio Dio Guarda come cucina È fighissimo Stanno usando Stanno mettendo Salta Ah la sta salando La sala La picchia Sì Lo brutta dentro Ed eccolo Dov'è Guarda C'è l'hai tu Qui Mazza come l'ha Regà Veggie burger Ne posso fare un altro Peccato che Non è automatizzabile Questo È stracarino Davvero bello Però è molto bello Sì sì Davvero caruccio Allora Prendi il tuo veggie burger Anzi prendi il mio veggie burger Sì E io direi Che possiamo Lasciare gli orti Non ortati Perché così Continuiamo la nostra Dura esplorazione Se va giusto No Sofì aspetta Ferma Cosa No perché Perché stava così Regà Ti ho visto Stava così Perché Averte Che è segnato un gol Che cos'è Non lo so What the fuck Ok Va bene Andiamo a brucolare Beh sei Dove è andato la tua macchina Però il crasso non si sente Pepe Pepe Eccomi Allora L'ultima volta No abbiamo seguito la strada E siamo arrivati davanti Al mostro rosso Quello grosso Ok Ah c'è un boss tipo? No c'è un tizio Che non ha paura dell'acqua Tra l'altro Quindi noi continuiamo E andiamo verso Questa direzione La benza finirà Molto presto Ve lo posso assicurare Speriamo di no Poi rimani così Torniamo a piedi Spingi Scendi e spingi Guido Se notaste delle differenze con la macchina È perché mentre usate risultavamo perché abbiamo trovato quella pianta là che credo sia il cotone È arrivato un bot e con un colpo mortacci sua ci ha spaccato uno di questo Ma l'ha rotto Cosa l'ha rotto? Il mio sedile Ha rotto pure il sedile No È normale Sto via a piedi Ah Forse non è caduto Non lo so Non lo so Guarda Non lo so Adesso c'è un parola Ok quindi questa versione abbiamo capito che non va bene per l'esplorazione Dobbiamo potenziarla La poggio qua sopra Anzi la metto Ercotone Finalmente Regà Ercotone Uno Anche qua le ho visti Ah ma ce ne stanno altri Ti prego Sono due Sì eccoli 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 Vabbè ok Un altro Yes Un altro Un altro Un altro Un altro Ok no 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 E pieno e pieno e pieno Non ho mai visto il cotone crescere così però Si intetto e cresce tutto insieme Non ci facciamo grosse domande La maure è a piedi No 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 tu cercherai di stare sopra la macchina mentre io andrò diligentemente E non andato più veloce Va bene Cosa qui invece bro Oh però il cotone ce l'è tanto regà eh È bastato andare fuori strada un attimo Che c'è una Un gommone C'è un gommone È un gommone tenda Aspetta che arrivo perché C'è una macchina No no aspetta Io sono due Arrivo Quanto cotone c'hai? Quanto? Quanto cotone? Quattro Io ce l'ho 21 Ero assetato di cotone Ero assetato di cotone Non ti trovo più euro Non ti trovo più Eccati Sono in casa Oh Sofì Aiuto Ma che vuol dire Riesce a uscire Come hai fatto a entrare? Aiuto Allora vieni qui davanti Ferma Premi control Ed esci Sì Ed esci Ok Grazie Esci con Dove è l'uscita? Vieni qua Guarda chi c'è Arrivo È lui È Pierpaolo Chi c'è? È Pierpaolo Poverino bro Ma è vivo Eh no è vivo Che the help Sì che è vivo Aiuto perché è incastrato? E adesso noi ce lo prendiamo Aspetta aspetta No Perché? Ma la macchina Ah è la macchina Dobbiamo prendere per Piaolo Pierpaolo Ma è normale che rodo era Eh penso proprio che sì Che fai scusa con questo? Allora io pensavo che dovessimo prenderlo con una sega Ma sto Oddio Oddio No bro un rotolato Tu segui lui Tu segui lui Tu segui lui No No tu No bro eccolo Aiuto Lo stai seguendo? Sto lamentando Sì Mi sta lamentando? Sì Aiutatelo Ecco Meno male che funziona la macchina Ok sì ma non devo smarmellare in più È lui che si muove Ok Ok Allora Pierpaolo come facciamo a prendercelo? Non ci posso costruire sopra Tagli un po' di cibo Tieni per favore Vuoi un po' di cotone Piera? Allora l'unica cosa che mi viene in mente è che possiamo fare una struttura tipo così E incastrarci E incastrarcelo dentro Ah dici Bru se senti un mostro ti prego uccidilo Perché se ci rompe qualche altra cosa Io guardo Tu sei la L'esploratrice Sei Bru l'esploratrice Devo salvare Pierpaolo Ma che era incassato qui dentro scusa? Eh boh Sarà un allor di questo gioco Poverino Bru mi fa un po' pena Ma io penso Pierpaolo lo dovremmo portare da qualche parte che serve quelle cose Che ci darà quelle cose che quelle cose fanno quelle cose no? Capito? Come c'è il fuoco? Ok che di te entra qui Pierpaolo? Per fuoco? Aspetta se faccio una scala? Ma dove sto scusa? Ma quanto è grosso Pierpaolo? No cazzo è grossissimo Eh dove vai Pierpaolo Bru? Qui non c'entra Eh ma help cosa? A parte sembra un gatto che piange No il mao che piange no Help Ok Vuoi fai portarlo lì comunque? Cioè se lo tuo chi rotola via Eh dobbiamo usare la magia No vabbè questo è un gioco di costruzione Quindi posso inventarmi tipo una scaletta Eh ma star way too A star way too per Paolo Per Paolo Pausolini Vieni Paolo 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 maledetto Te lo rotolo lì Poi a casa gli facciamo una struttura un po' più adeguata Poverino Fa un po' pena Fa un po' pena Pierpi Eh pota guarda come è incastrato Ok Io spero che entri Vediamo un po' Non hanno imprigionato i poteri forti Alla Bru tu vai laggiù E cerchi di No Alla tu Dai una botta e mandamelo addosso a me Ok Perfetto No Quasi No Si ci si Ggiamo a calcio con Pier Paolo No No Vai Va bandamelo da me No Che cazzo mi hai fatto Scusi Ma potete metterlo davanti In castello davanti Bru Ma no 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 Deve sta qua sopra Anche perché quando la macchina parte Vai Ma Vieni da me Hai capito È difficile So se si muove Prendilo Ok Piano Aspetta aspetta Vai un pochino verso di me Benissimo Oh Si 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 No non c'entra Aspetta 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 Fermo fermo qui Mi sa c'era questo bullismo Ma è per il suo bene Regà No Non c'è il valo Quello siamo qui da solo Poverino Ok Si Sì Fermo 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 Pierpa Aspetta che chiudo No chiudo chiudo Bru Vai chiudici dentro Togliti Spostati 3 2 1 Vai spostati Te li spostavo Ok Perfetto Perfetto Ma ti dirò anche sopra Eh si si E io Bru E tu Sto amore Una brutta notizia No scherza Aspetta eh Fammi un posto sopra te Paolo Come faccio a farti un posto Sopra Pierpaolo Aspetta Bruno Partire Ti prego Non partire E tipo sopra Mi fai un piccolo ripiano Ok che dici Ok Io so Voglio essere sicurissimo Che Pierpa non scappi Guida con cautela Ma che altro È buio Eh lo so Sta diventano Ok Bru È Priself Però tu parli Vado Bru Eh Hai paura di morire Ah ma Hai paura di morire Sai che ti posso fare Ti posso fare Uno schienale dietro Così tu ti appoggi Eh infatti Fai tipo dietro Una specie di Finta sedia Ok Allora Io qua fai un murettino Così io mi incasso Vai Ok Fai un po' anche al lato Ti faccio tipo un trono Esatto Il trono di legno Ah aspetta ti chiudo Scusami Bravo chiusi Mi incasso Ecco fatto Tipo il seggiolore Per i bambini Capito Signori Un'esplorazione strana Ma comunque Un'esplorazione È questa Oddio Va all'indietro Regà No bruci Sto animo Cazzo Sofia È partita No No Pierpaolo No Porco il demonio Vari cappottamenti La Sofia È andata a piedi E ci sta difendendo Questa è Sofia Che combatte Ce l'abbiamo fatta Osvaldo È a casa Si chiamano Osvaldo Pierpaolo Pierpaolo E adesso Vedo la luce Dobbiamo aggiustare La macchina Potenziarla E poter portare Pierpaolo Dove dobbiamo portarlo Io ritrovo un sacco di tempo Penso siano passati due giorni Sofì è ingabbiato Pierpaolo Gli abbiamo messo le ruote L'abbiamo attaccato Con questo strumento qua Ve lo faccio vedere Perché non eravamo in live Cioè non stavo registrando È uno strumento Che due macchine Ok Te le Tu gli dici Attacca questo pezzo A questo qui E teleunifica Geniale Più o meno No aspetta Perché se c'è Più o meno Siamo tu soltanto Che ho delle difficoltà tecniche Ah no Non fate il contrario Se no Pierpaolo esce No Non toccare Pierpaolo Ci sono quattro giorni Ci abbiamo messo Quattro giorni Allvero Oh ecco fatto Adesso sta su uno snodo E possiamo fare le curve E la macchina È ben difesa Oddio Fa abbastanza ridere Fa molto Secondo me Dobbiamo allungare Oddio Bru vostro Difendimi 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 Ok 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 Va sistemato Però prima Abbiamo il cotone Quindi io farei Un sedile per la Mao Un sedile per la Mao Eccolo qua Tu preferisci Quello tipo moto O quello tipo poltrona 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 Poi vediamo il letto Il letto vuole 20 Sono la regina E la regina Va bene Il letto vuole 20 Ci permette di rispondere Quindi io chiederei a Sofia Se va a fare dei fiori Vai a fare dei fiori Sofia Perché faccio con i fiori? Sì Ma di che tipo i fiori? I fiori sono tipo questi Ah ma ce ne stanno 5 qua fuori casa Ah ok C'è anche un mostro Ah questi qua Questi cosi qua Che ti servono per colorare le macchine Le gattere servono tantissimi Ah però ne servono 10 Ah io Bastardo maledetto Quanti c'era i tu piccola? Io 7 Zero Guarda non ci sono Guarda lì c'è un tuo amico Dove? Lì vai un po' più a destra Bravissima Oh Oh Guarda come salta sull'albero Oh questo è forte Questo è forte 5 botte gli servono Ok Ti ha? No no Mi curo con i miei pomodori I pomodori buoni Ok abbiamo il colorante Dovrebbe darcene 10 O 5 Non lo so Non lo so La domanda è Dove cacchio andiamo a portare coso? Perché le due strutture di imballamento Onze Non sono Quindi C'è ma anche una struttura Ah è lì che dicevo Dove? È lì dove c'è l'antenna radio Forse è quello Dai 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 Mai c'è la casa del nostro amico È un c'è una struttura che non ho visitato Che è qui a sinistra Ok ce n'è da 10 Perfetto Andiamo andiamo a vedere 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 Che porteremo a casa? Senti ma secondo te se lo lasciamo qui Pierpaolo Lui despona Oppure? Non devi neanche rischiarlo No E ho capito che me lo porto Sì Porti in giro Tu dici Va bene Allora visto che ce lo dobbiamo portare in giro ragazzi Il letto è essenziale Piuttosto che il coso buono Perché possiamo sponare sul veicolo se ci uccidono Ok? Quanto ci mette? Un minuto intero e poi siamo pronti Let's go Regà abbiamo fatto il paninone Il reviving baguette Ma guarda si muove bro Fa blo 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 E' disgustoso regà E' enorme C'è un grosso cetriolo Io ho di cetriolo Tutti odiano i cetrioli Tutte persone normali Che schifo Vabbè abbiamo fatto il letto e il sedile Please help Vediamo il letto No non dire Oddio il letto possiamo dormire così? Beh Ok Ti ha settato lo spawn point? Credo che si Sì sì Hai dormo qua? Cos'è da me qua? Prova Sono un po' confuso E' comodo Mamma mia Capirà C'è Gian 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 Lo che c'ho Sofia Così tipo Tutankhamon Guarda dentro il cuscino La testa dentro il cuscino Spirata E' espirata E' sento lo tolgo Mentre dormi? Ok no Allora questo è il suo sedile Madame Si si sposti però Stai sopra No si deve spostare Proprio Ecco fatto Sì ma te lo ritorgo Perché lo devo mettere bene Tu mi sposti Ma come è? Ma un gommone Quello che mi hai fatto Che vuol dire Sempre un gommone Ma un prezzo Scusa Oh ecco fatto Vai E' comodo Ma si dai Questo lì peggio Può andare Grazie E poi il letto Io volevo mettere Storto Non si può mettere Storto Dai Perché no? Eeeh Eeeh Eccolo Era comparso Il letto Ciao No perché? Ma aggiungi un blocco dietro Aggiungi un blocco dietro Eccolo vai Vai setta il respawn Eh devi settarlo però vai Tiè Guarda mentre io guido Tu puoi dormire Non sei felice Minchia grazie Let's go Grazie caro Anche shifty eye live Erega Shifty mind Su twitch Madonna che ho creato Dietro bro Non so sicuro Non so sicuro Non so sicuro Sbilancia tutto E' qui E' qui rega C'è un passaggio segreto Non buttarti così No no io Basta vado Ce la facciamo Ce la facciamo Ce la facciamo Mamma mia Sì Stiamo dalla parte molto sbagliata della cosa Però Che c'è scritto Che c'è scritto Keep out E' qui E' qui E' qui E' qui Io Lo sai che incastrato E' la scastro Aspetta Che c'hai sti cosi qua Adesso qual'è il problema Pierpaolo va spinto A cazzotti Vai spingi No Aspetta Stai portando Vai Pierpa Vai Pierpa Vai Pierpa Sei tutti noi Non lo fa passare C'è il tubo Quale tubo E' il tubo di Pierpaolo Ce la faccio Piano piano Oh ecco fa Regà Non possiamo Usa questo Perché se no Pierpaolo Sdroppa Dalla struttura Che ha creato Shifty Maledetto Pierpaolo Maledetto Pierpaolo Quindi facciamo Prendiamo ancora un po' Cazzo Aia Che dolore Mi sono fatto male da solo Ok Ma gli fattiamolo Ci siamo Ci siamo A questo Ma sento Ci abbiamo Quattro di Benza Regà Vi rendete conto Quattro di Benza Poi facciamo così Così E ci siamo Ci siamo Ci siamo Ci siamo Non ci siamo E lui E' una struttura Nascostissima Laggiù c'è un aspiratutto Dov'è sto Fia ancora Dove mettere Pierpaolo Lì dentro Dice che ci mettiamo Una gabbia Sì C'è proprio Spiegato Capito Lui era partito Ha detto Se qualcuno Mi dovesse imprigionare Sai dove Qualese Finalmente Aspetta Questa struttura Il mio sgancio La mia macchina è libera Finalmente Sì Siamo liberi Bru Liberiamolo Libero Pierpaolo O premo il pulsante Direttamente Che succede Oh L'ha succhiato Che paura Ma Dov'è Dov'è andecio Dov'è andecio Guarda Pierpaolo Bru Dovrei prendere il pulsante Prova No Niente Eh Dovrebbe Aspetta Eh lo succhi Bru Eccolo Dove dove Qui È entrato dentro casa Poverino Andiamo a salutarlo Guarda come è felice adesso Aspetta Se ti allontani Se ti allontani Chiude Ah Ma io che finisce qui C'è un Questa è casa sua Ah Ma è un venditore Sì Allora Fertilizer Banana Per le banane Vuole le carote Tre carote Come tre carote Vabbè Eh Sfile trade Che figo Regali armi Le armi Lo spudkun Spudgun Spara le patate Ok Poi c'è Lo spud Shotgun E lo spud Gattler Che credo sia Un tornato Bellissimo Ma che figo Ah ma queste qui Sono carote impacchettate Giusto Patato Hemmo Sì E queste qui Che sono Sono Common E rare Che dentro ci sta Ah dentro ci stanno I cosi I vestiti Anche i drill Posso comprare Con la Bello Bru Povero per farlo, arrivo Ah no, vuole le berries Però le berries se le possiamo ottenere Andiamo a impacchettare della roba, Bru Ok, arrivo Anzi no, aspetta, aspetta Buona, mi ero promesso che non fa puntata E durano un'ora e cinquanta Facciamo così L'esplorazione l'abbiamo ottenuta Abbiamo ottenuto cotone e Pierpaolo libero Adesso noi possiamo Fare un tir gigante Perché questa macchina è troppo piccola Per impacchettare tutte le cose dell'orto E portarle qui Per prendere la roba Ok Ma è figo È troppo bello, davvero Ora speriamo di tornare a casa Il Paolo era ingabbiato Non ci ha detto neanche un grazie No, più che altro Cioè tu a uno che ti ha salvato tutto il tempo Non gli regaleresti qualcosa, no Appunto, un cazzo E lui invece Sta lì e c'è chi ha i sordi, sto bastardo Vabbè regà, è stato un piacerone Lasciate il pollicello in su per supportarci Noi ci vediamo sempre in live Dalle 18 alle 2 di notte E passate anche a trovare la Shifty Su ShiftyMineTwitchPuzzodimerda.com Va bene, ora la soffoca nell'acqua Bella per voi Affoga Ciao Ciao Pshh Ciao Grazie a tutti.